ci troviamo a santa maria degli angeli come vedete nel sottofondo c'è assisi quindi non lontanissimi dalla città di assisi patrimonio dell'unesco e siamo qui nello stesso piazzale dove sono ormai più di un anno che veniamo quando possibile a raccogliere lo schifo che c'è c'è cresciuta sopra l'erba naturalmente vedete già avevo detto che avevano chiuso dei cancelli con le barre quelle bianche e rosse vediamo anche dall'altra parte ci sono le barre ma la robaccia è ancora tutta qui vedete in tonaco calcinacci purtroppo è difficile in certi punti da inquadrare ma come vedete qui cartongesso a go go è difficile da inquadrare perché c'è l'erba alta ma vi garantisco che questo fosso è ancora completamente pieno di detriti ora vedete hanno messo queste transenne come le chiamiamo come si chiamano per non far passare maleducati ma come potete vedere la spazzatura comunque rimane dove si trova esattamente da anni nonostante sia cambiata l'amministrazione nonostante abbiamo più volte denunciato questo schifo che naturalmente è fermo così da anni e non di certo da ieri come potete vedere è pieno di spazzatura ovunque praticamente ormai la spazzatura sta diventando tutt'uno con la natura guardate qui guardate qui guardate che bello spettacolo naturalmente noi come hobby o passatempo come oggi durante questo video siamo qui a ripulire ma la domanda sorge spontanea l'amministrazione cosa ne pensa e Grazie a tutti.